Ecco a voi Samsung Galaxy Watch 4, il nuovo smartwatch di Samsung con una serie di sorprese. La prima è che questo prodotto va a sostituire sia la linea Galaxy Watch Active che quella watch classica, ma soprattutto che lo fa con un punto di onore molto particolare, ovvero il fatto di avere all'interno Wear OS personalizzato con interfaccia Samsung invece del solito Tizen. Scopriremo in questa recensione che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato. Ma io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche perché questo è il primo dei prodotti che andremo a recensire di Samsung nelle prossime settimane. Questo è un Galaxy Z Fold 3, arriveranno poi anche le Buds 2, ma arriverà anche Galaxy Z Flip 3 e questi sono, mi sembrano, degli ottimi motivi appunto per iscrivervi al nostro canale se non l'avete mai fatto. Eccoci qua quindi con Galaxy Watch 4 di Samsung, questa è la sua confezione, Galaxy Watch 4 di Samsung da 40 o 44 mm oppure nella versione classic in acciaio con la ghiera fisica da 42 o 46 mm. Questo appunto è la versione base, non direi classica perché sennò poi ci si confonde con la versione classic, quindi versione base, chiamiamola così, da 40 mm che è quella che io più volevo provare perché ho un polso abbastanza esile, quindi più piccolo era l'orologio o meglio è. All'interno della confezione l'unica cosa presente è questo che è l'alimentatore con base magnetica, non ho neanche mai levato la plastichina, allora lo faccio con grande soddisfazione ora in questo momento. Base magnetica per collegare appunto magneticamente questa base all'orologio stesso, come vedete è attaccabile, collegabile a qualsiasi inclinazione e questo è molto comodo. Bene anche che il cavo sia abbastanza lungo e come sempre non c'è però l'alimentatore in confezione, quindi si deve collegare a qualcos'altro. Questo è Galaxy Watch 4 nella variante da 40 mm con cassa in alluminio, questo cinturino in gomma tranquillamente sostituibile. Devo dire che mi è piaciuto, non si consuma molto, è anche molto bello ma ha un difetto, ovvero vedete che è pieno qua dentro e quindi si piega per assurdo, anche se non serve molto di qua ma non si piega molto da quest'altra parte, quindi se avete un polso veramente esile come il mio può succedere che nonostante sia della dimensione giusta magari voi lo vorreste un pochino più aderente qui, vabbè questa è proprio una piccolezza, voi prendete, cambiate cinturino e via. L'orologio è IP68 resistente fino a 5 atmosfere per l'impermeabilità, come vi ho detto appunto cassa in acciaio con questi due tasti fisici, uno con questo accento rosso e poi pulito dall'altra parte. Qui abbiamo lo speaker, qui abbiamo un puntino minuscolo, non lo vedrete mai ma è il, sì ma forse lo vedrete, è quello del microfono e sotto abbiamo i sensori di battito cardiaco per l'ossigenazione del sangue ma anche per la composizione corporea e per l'ECG, poi ne riparleremo a breve. Abbiamo poi un display, un display che adesso magari andiamo a, questo pin è inutile che ve lo guardate perché l'ho messo soltanto per questo, non sono così stolto, di solito uso sempre 1, 2, 3, 4 per le recensioni ma in questo caso non lo permette, quindi è abbastanza intelligente e non permette di mettere un pin così semplice e perché c'è un pin? perché ovviamente c'è il pagamento, quello ci arriviamo a brevissimo. Il display 1.2 pollici di diagonale in questa variante qui, risoluzione 396x396 pixel, però ogni volta si riblocca, ok. È un Super AMOLED protetto da Gorilla Glass DX+, supporta l'always on display e ha la luminosità automatica. Luminosità molto buona, devo dire nel complesso un display veramente molto molto piacevole, un bel display, luminoso, sempre ben visibile, la luminosità si adatta bene, c'è l'always on che io comunque non ho usato perché la funzione di attivazione con il movimento del polso funziona molto molto bene, ma parliamo dell'hardware. Abbiamo un hardware veramente top perché abbiamo un Exynos W920 con un giga e mezzo di RAM, 16 giga addirittura di memoria interna, wifi, bluetooth per la connessione alle cuffie, ovviamente il GPS più GLONASS e anche il chip NFC, ma oltretutto non mancano neanche, ve l'ho già fatto vedere, il microfono e lo speaker. Per cosa potete sfruttarli? Potete sfruttarli per l'assistente vocale Bixby, e poi di questo parleremo a brevissimo. Potete sfruttarlo per rispondere alle chiamate al polso e potete sfruttarlo anche per andare a dettare le risposte alle notifiche. Sì, purtroppo ogni volta che sente la rotazione del polso lui si riblocca e siccome è fuori dal polso mi richiede il pin. Ovviamente se lo tenessi al polso non mi chiederebbe mai il pin perché finché lo tenete al polso il pin ve lo chiede soltanto la prima volta, però è una funzione ovviamente di sicurezza nel caso dovesse perderlo o dovesse essere rubato. Allora, parliamo però del software, delle funzioni, di quello che può fare, perché se lo guardiamo così, niente, dannazione, sembra assolutamente il solito Tizen con i widget qui di lato, ve li faccio vedere tutti rapidamente così vedete quelli principali. Allo stesso tempo sembra appunto lo stesso software che avete visto su tutti gli ultimi onologi di Samsung, quindi scorro verso il basso e abbiamo la tendina per i toggle rapidi e ce ne sono veramente tanti, sono riorganizzabili, ce n'è anche un paio che non ho messo, ma potete anche cambiarne ovviamente l'ordinamento. Le applicazioni sono qua sotto arrivando dal basso verso l'alto e le notifiche sono qui di lato. Allora, andiamo un attimo a vedere la gestione delle notifiche, perché avete visto che è quella di Tizen, ma non è quella di Tizen, perché in realtà qui abbiamo, e qui arriva il punto focale, Wear OS. Tra le altre cose vedete che vede le icone, qui mette l'icona sullo sfondo, vede le immagini, quindi se io faccio un tap qui potete andare a interagire come interagireste dalle notifiche del vostro smartphone ed è proprio per questo che potete andare a rispondere ai messaggi che lo consentono. E è possibile farlo in tutti i modi possibili, credo sia l'unico smartwatch che veramente ha tutti i metodi di risposta a disposizione. Le risposte rapide, la tastiera virtuale, l'invio di emoji, il disegno delle singole lettere, quindi scrivete una lettera per volta, oppure la dettatura e vi faccio vedere. Ciao Emanuele, virgola, come va? Punto interrogativo. Eccolo qua, perfetto, velocissimo nel riconoscimento e funziona estremamente bene. Le notifiche sono sincronizzate con lo smartphone, quindi cancello una notifica da qui e si cancella anche dallo smartphone e viceversa, insomma la miglior gestione delle notifiche di sempre. Si vedono le immagini, se le notifiche su Android mostrano le immagini, non funzionano i messaggi vocali, non si possono né ascoltare né mandare, perché? Perché è una cosa che non è permessa nelle notifiche di Android. Il giorno che magari questo succederà, automaticamente dovrebbe iniziare a funzionare. Anche qui, chissà se mai questa cosa potrebbe mai essere implementata. Come ho detto, si possono fare notifiche chiamate al polso, scusate, e tra l'altro il dialer telefonico è quello di Google, completissimo, secondo me migliore di quello di Samsung. E poi, se scorrete qui, avete tutte le applicazioni pronte per essere avviate. Sono abbastanza, sono tante, anzi diciamolo chiaramente. Non c'è più il Galaxy Store, ma c'è il Google Play Store per quanto riguarda Wear OS. E qui, voglio essere proprio sincero, non è che la situazione sia drasticamente migliore rispetto al Galaxy Store, perché, tra l'altro, queste sono le applicazioni in primo piano e, come vedete, la maggior parte sono applicazioni di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Se sullo sport e sui quadranti c'è una discreta scelta, tutto il resto, insomma, vedete, dubito che conosciate molte di queste applicazioni e così, infatti, non è stato per me. Io, per esempio, ho installato Spotify, che però è peggiore di quella di Tizen, perché al momento, lo farà in futuro, dicono, ma per adesso non può scaricare i brani offline, quella di Tizen lo permetteva. Shazam, SmartThings di Samsung, Toadwist, Stockard, c'è, per esempio, ci potete anche tenere il Green Pass, se volete. L'applicazione di Outlook è preinstallata e poi abbiamo un'applicazione addirittura dedicata per le buds, abbiamo Bixby e abbiamo Samsung Pay. La grande differenza rispetto al Play Store, rispetto al Galaxy Store, è il fatto di poter mettere le applicazioni di Google, punto. È questa la grande differenza. C'è Google Maps, con la navigazione, se volete, anche al polso. C'è Google Pay, anche se purtroppo non potete impostare la scorciatoia sul tasto fisico, ma solo Samsung Pay, questo è un po' un peccato. E poi avete, per esempio, Keep. Cosa manca? Manca Assistant al pre-brief, mi hanno detto che Assistant ci sarebbe stato, Invece Assistant non c'è, a quanto pare l'informazione era parziale, ovvero ci sarà, ma quando ci sarà non si sa. Quindi non lo comprate per l'esperienza di Google Assistant, perché al momento non c'è ed è difficile dire quando arriverà. Non vi ho parlato della ghiera touch. In realtà non sono un grandissimo fan della ghiera touch, per il fatto che la verità è che la ghiera non è touch. Se toccate solo il bordo esterno non succede un bel niente. È solo un trucco per cui, mettendo il dito sopra, lui sul touchscreen più esterno sente il tocco e lo fa scorrere. Va anche bene, eh. Non è che... Però, diciamocelo, è più comodo di fare così? Direi di no. Direi che toccarlo con il dito è sicuramente più comodo. Non mi dà particolarmente fastidio questa cornice nera. Se mettete una bella watch face nera non si noterà. Ce ne sono, devo dire, tante di watch face veramente belle, sia già quelle di Samsung, sia, tenete conto che questo è Wear OS, potete mettere praticamente le watch face che vi pare installandole tranquillamente dal Play Store. E qui vi ho dato un'infarenatura complessiva del nuovo Wear OS con interfaccia personalizzata One UI 3.1, tra l'altro mi pare, anche qui, come sugli smartphone. Non vi ho ancora parlato di tutta la parte fitness. Allora, tantissimi sport, se non sbaglio sono più di 90, ce n'è veramente un'infinità. Potete attivarli anche qui direttamente dal widget. Una cosa che non mi ha fatto impazzire è che lui parte subito per fare il tracciamento, ma se siete all'esterno, vedete, non ha ancora fatto il fix GPS. Quindi io, siccome volevo il GPS dal primo secondo in cui cominciavo a correre o a camminare, sono entrato in questo menu e ho aspettato che facesse il fix. Quello del battito ovviamente non lo fa perché non trova il polso, ma ora sono al chiuso, ma devo dire che all'esterno non ci ha mai messo più di 15-20 secondi. È molto molto veloce. Tantissimi dati, ve lo faccio anche vedere, magari avvio la sessione e ve lo faccio vedere. Tantissimi dati a disposizione, tra l'altro personalizzabili. Qui vi fa vedere che qui di lato avete i controlli per fermare il tutto, di qua avete quelli per il controllo musicale. Scorrendo qui avete tutti i vari pannelli con anche il pannello per quanto riguarda la zona cardio. Usciamo di qui, vabbè, camminata di 15 secondi, ma non sono andato da nessuna parte. Tantissimi sport, come vi dicevo, ma non solo. Tracciamento di sport, tra l'altro bene il GPS, bene il battito cardiaco. Non vi aspettate i risultati da fascia cardio o da super sport watch, ma per gli smart watch l'ho confrontato anche con un Fitbit Sense che va abbastanza bene. Che diciamo è uno di quelli abbastanza buoni per il tracciamento e questo fa probabilmente anche un pelino meglio. Ma non solo appunto tracciamento dell'attività fisica perché abbiamo le notifiche di inattività, il rilevamento automatico dell'attività fisica, lo stress, gli esercizi di respirazione, il tracciamento dell'ossigenazione del sangue di notte. E anche vi faccio vedere, abbiamo qui il calcolo della composizione corporea e l'ECG qua giù in fondo, avevo messo eccolo qua il widget. Poi vi faccio vedere magari i risultati per quanto riguarda appunto queste cose dall'applicazione per smartphone. Vi dico solo che per la composizione corporea dovete appoggiare due dita qui, mentre invece per quanto riguarda l'ECG dovete tenere le dita in questo modo. Ma tanto poi ve lo spiega lui, quindi è assolutamente un in più tutto quello che vi sto dicendo adesso. Ma siccome è un Wear OS vestito da Tizen, ci sono tantissime opzioni, tantissime funzioni e ve le faccio vedere però dall'applicazione, anzi al plurale, dalle applicazioni per smartphone. Allora questa è l'applicazione per smartphone, si chiama Wear Galaxy, Wear Samsung, non me lo ricordo più di preciso. È molto semplice perché non è l'unica, da qui per esempio non si controlla tutta la parte di fitness, ma da qui si gestisce l'orologio. Da questo menu potete andare a scaricare tutti i vari quadranti, se andate su altri poi andate sul Google Play, quindi non più sul Galaxy Store. Su personalizza potete anche scegliere quello che potete cambiare di questi quadranti, per esempio il colore, la personalizzazione dei vari blocchi, quello in alto a sinistra, quello in alto a destra, eccetera eccetera. Quindi cose che potete fare anche dall'orologio, ma da qui è oggettivamente un pochino più semplice. Potete scegliere di riordinare le applicazioni, non di installarle, le dovete installare direttamente dall'orologio, di riordinare i widget, eccoli qua, questi sono quelli che ci sono e qua sotto ci sono tutti quelli che potete aggiungere. E poi andare a scegliere, come vi dicevo, cosa mostrare nel pannello rapido, come vedete in basso ci sono delle voci che io non avevo messo. Ma è andando in impostazione all'orologio che si apre un mondo, un mondo di impostazioni che Wear OS di solito, solitamente si sogna, ma che grazie alla personalizzazione Samsung qui c'è. Per esempio la gestione delle notifiche, che è veramente sublime, soprattutto perché mi piace il fatto che non vi mostra il listone di tutte le applicazioni, ma ve le ordina per quando vi hanno mandato notifiche di recente. Quindi potete piano piano magari aprire questo menu e andare ad aggiungere quelle che vi hanno notificato di recente, ma non avete visto sull'orologio, avete detto ah magari a Facebook, mi hanno dimenticato di Facebook, e lo aggiungete. Suono e vibrazione, ve li faccio vedere questi menu molto rapidamente, le opzioni sono tantissime. C'è l'always on display, come vi dicevo, che io però non ho usato perché alza il polso per attivare, ha funzionato benissimo. Spegnimento dello schermo, quindi il time out, per quanto tempo volete vedere l'ultima applicazione utilizzata quando muovete il vostro polso, per esempio se utilizzate le applicazioni particolari per il tracking o altre cose così, può essere comodo far sì che non spariscano subito. L'impostazione dei tasti fisici sulla doppia pressione del tasto superiore, come potete vedere potete mettere tutte queste applicazioni, fra cui anche Google Pay. Prima vi ho dato un'informazione che non era proprio chiarissima, in questo caso lo vado a chiarire. Quello che non si può fare, come vedete qua sotto, è mettere intanto un altro assistente vocale sul tasto sulla pressione prolungata, che ovviamente non ci sono altri assistenti vocali, ma qua sotto alla pressione breve uguale non potete fare la stessa cosa. Quindi quello che io volevo dirvi prima è che sì, potete mettere Google Pay come funzione rapida, ma non sostituire per esempio la pressione prolungata e metterlo qui. Io l'avrei trovato più comodo, ma comunque si può fare. Ci sono i gesti, rispondere alle chiamate oppure ignorare gli avvisi e le chiamate. Abbiamo poi il risparmio energetico per quanto riguarda la batteria e vi dice anche quale funzione ha consumato più energia. Poi su gestisci contenuti potete caricare brani musicali o immagini nella galleria e nel lettore musicale offline del vostro orologio. Poi ancora la funzione di ghiera touch, potete appunto andare a disabilitarla o a disabilitare il feedback, motore di sintesi della voce e poi potete scegliere anche la tastiera, in questo caso andare a scegliere tutte le impostazioni della tastiera, che probabilmente non userete molto spesso, ma come vi ho detto c'è. Altra applicazione a disposizione è ovviamente Samsung Health, che è quella per quanto riguarda il fitness. Vedete qui i dati dei passi giornalieri, se andiamo su esercizio, vediamo vedi cronologia, potete andare per esempio a guardare la traccia di un'attività fisica e guardate quanti dati e come vengono mostrati in modo chiaro. Poche applicazioni sono così curate da questo punto di vista, potete scorrere, potete cambiare la divisione in giri, per esempio in chilometri. Intanto per farvi un esempio, perché come vedete c'è veramente tantissimo tantissimo per cui scavare. Abbiamo poi il tracciamento del sonno, eccolo qua, abbastanza preciso, anche se come vi dirò non l'ho utilizzato sempre anche perché la batteria... Vabbè, finiamo questo discorso alla fine. Composizione corporea, vi avevo promesso che ve l'avrei rifatta vedere, ecco qua i dati che raccoglie. Il calcolo automatico dello stress con esercizi di espirazione e il calcolo automatico dell'ossigenazione del sangue. C'è poi una terza applicazione che si chiama Samsung Health, che traccia la pressione arteriosa, ma non nel nostro caso perché in Italia non è stata autorizzata e quindi non lo fa, ma l'ECG sì e in questo caso ovviamente dovete sempre andare dal vostro medico se volete fare un test vero sia della composizione corporea che dell'ECG, ma quantomeno vi dà un test rapido ovviamente rispetto a chiamare il dottore, fissare l'appuntamento, andare, questo è sicuramente un primo step molto molto comodo. E questo era quasi tutto quello che avevo da dirvi su questo Galaxy Watch 4 nella variante base, non chiamiamola classica, non creiamo confusione. Mi manca ovviamente di parlarvi della autonomia. Allora, l'autonomia in uno smartwatch come questo, soprattutto nel taglio un pochino più piccolo, quello da 40 mm appunto che è anche una batteria un po' più piccola, non avevo grandissime aspettative e purtroppo non sono stato sorpreso da questo prodotto. Si parla di un giorno, un giorno e mezzo, notte compresa, ma due giorni non si arriva a farli anche con lo Louis-On spento. Pertanto rimane, secondo me, dopo un po' di giorni di testa, alla fine mi sono arreso e l'ho caricato di notte. Anche perché la ricarica impiega poco più di un'ora e mezzo, quindi non è fulminea e quindi comunque voleva dirlo, tenerlo fuori dal polso per molto tempo durante la giornata, quando invece magari mi faceva comodo tenerlo al polso. Mi sono arreso, secondo me, caricarlo di notte rimane la scelta migliore. Per quanto riguarda il consumo durante l'attività fisica, con un'ora di GPS utilizzato, il consumo è fra il 10 e il 15%, quindi anche qui assolutamente in linea con gli altri smartwatch di questa categoria, che avendo una batteria di questo tipo non consumano affatto poco. Arriviamo quindi a parlare di prezzi, parliamo di prezzi in modo molto ampio, perché si parte da 269 euro per questo, che è quello più economico, 2,99 per la variante più grande, poi diventano 3,19 e 3,49 per la variante LTE, che al momento supporta l'iSIM soltanto dell'operatore TIM, e poi ci vogliono 100 euro in più, potete tranquillamente aggiungere 100 euro in più per il modello classic, quindi da 369 a 4,49. Prezzi che sono tutti una cinquantina di euro più bassi dei modelli precedenti al lancio, quindi sia di Watch 3 che di Watch Active 2, e questo è sicuramente una buona cosa. Comunque, non prezzi stracciati, ma neanche prezzi altissimi, come magari erano quelli delle precedenti generazioni. Per me Galaxy Watch Active 4 è assolutamente promosso, è un prodotto che offre il meglio nel mondo Android per quanto riguarda gli smartwatch, per il display, per l'hardware, per la rilevazione dell'attività fisica, per quanto riguarda soprattutto quest'anno il software, che fa un bel passo in avanti per quanto riguarda le notifiche, per quanto riguarda il Play Store, e per quanto riguarda soprattutto il supporto alle applicazioni di Google. Sempre che per voi l'assistente di Google non sia fondamentale, se venite da uno smartwatch Tizen sicuramente non lo è e non lo sarà neanche per questo. Come vi dicevo all'inizio, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, perché presto arriverà la recensione di questo Galaxy Z Fold 3, ma poi arriverà anche la recensione delle Buds 2 e dello Z Flip 3. Grazie ancora per averci seguito fino a qui, un saluto da Emanuele Cisotti per MobileWorld.it Grazie a tutti.